I media del Parlamento! Professione precedente? Impiegata. Perché hai deciso di fare politica? Perché ero stanca di votare turandomi il naso. Come si trovi in Senato? Sei stata intimidita all'inizio? Se devo essere sincera sì, perché era un ambiente al quale io non ero abituata e poi vedere tutte quelle facce che prima si vedevano in televisione, insomma è stato per certi versi una bella esperienza, è una bella esperienza. Cosa fai esattamente per noi? Agricoltura, diritti umani e politica europea. Quella dell'Expo è una spesa giustificata per promuovere i prodotti alimentari italiani, secondo te? Assolutamente no, perché i prodotti italiani devono essere pubblicizzati, rivalutati, sostenuti, ma soprattutto le persone che sono dietro ai prodotti italiani devono essere sostenute. Ottenere il reddito di cittadinanza potrebbe compensare l'abolizione dell'articolo 18? Sono due cose completamente diverse. Il reddito di cittadinanza dà il sostegno alle famiglie, a quelle che non hanno nessun sostegno, che non hanno un lavoro, che hanno bisogno di essere sostenute. L'articolo 18 è ben altra cosa. Ci sai spiegare perché le riforme costituzionali vanno avanti anche se ci dicono che non c'è più il fatto del Nazareno? Chi l'ha detto che non c'è più il fatto del Nazareno? A proposito di movimento, ti spaventano di più le espulsioni o le defezioni? Mi infastidisce, ecco, io lo sento più come un fastidio, cioè il fastidio è di essere, di non rispettare le regole, è quello che mi infastidisce di più, non mi spaventa. Senti, devi scusare, questa è veramente stupida. Te l'hanno mai detto chi dice donno dice danno? Sì, tantissime volte, tantissime. Cosa fai per tenerti in forma? Ho tre commissioni, politica europea e diritti umani, tre luoghi diversi da raggiungere, quindi questo mi mantiene in forma. Adesso invece vorrei un bel detto in dialetto leccese. Se lo ciuccio non vuole cubia, magari ca fischi. Se il mulo non vuole bere, ha voglia fischiare. Vorrei che ci accennassi una tua canzone del cuore. Io non posso stare fermo, con le mani nelle mani, quante cose devo fare, prima che venga domani. Ti ricordi la data in cui abbiamo cominciato a usare l'euro? 2002? Sì, la data? Primo gennaio 2002. Bravissima. Doveste passare la riforma Renzi del Senato, come fai a rientrare qua? Ma perché hai detto che per forza debba tornarci io? Io ho un altro, va bene, purché il Movimento 5 Stelle possa andare avanti, o io ho un altro, va bene comunque. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Grazie. 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 Grazie.